La Juventus, nonostante in questi giorni sia stata impegnata a chiudere l'affare d'élite, non ha mai smesso di pensare a Mauro Icardi. Inoltre ora ci sarà spazio anche per presentare un'offerta ufficiale all'Inter, non più però di 40 milioni di euro perché i dirigenti bianconeri ritengono che il numero 9 per i nerazzurri sia un problema, a maggior ragione dopo questo ritiro a Lugano. Visti i rapporti ormai deteriorati tra Marotta e Paratici, trovare un'intesa non sarà così semplice, ma i contatti indiretti sull'asse Torino-Milano ci sono già stati e non escluso che altri vadano in scena nei prossimi giorni. Di certo la Juventus non ha fretta perché sa che l'Inter ha dovuto risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, anche perché la Juventus dovrà trovare una sistemazione a Manzuki-Ciguain e senza un rinnovo anche a Ken. Marotta e Ausilio si sono informati sull'attaccante della Nazionale che ha solamente un anno di contratto in una riunione avvenuta la scorsa primavera, ma adesso hanno virato su altri obiettivi. L'Inter dalla società campione d'Italia si aspetta soltanto soldi e niente contropartite tecniche. Richiesta iniziale tra i 60 e i 70 milioni, una cifra da raggiungere anche con eventuali bonus. Resta in dubbio il futuro di Nicolo Zagnolo. Il sociocampista della Roma ha comunicato l'intenzione di presentarsi al ritiro di Trigoria quattro giorni prima del 22 luglio, data inizialmente concordata. Il calciatore vorrebbe mettere in chiaro la sua volontà di rimanere nella capitale, specificando che un eventuale addio sarebbe da imputare alla società. I giallorossi sono pronti ad incontrare la dirigenza del Tottenham per discutere i dettagli di uno scambio di altissimo profilo. In ballo, oltre a Zagnolo, ci sono Tobi Alderweiret e Musa Sissokou. In caso di addio alla Roma, però, la preferenza del centrocampista azzurro andrebbe alla Juventus, che resta alla finestra. Non solo Mauri Cardi, ma anche Raja Nainggolan lascia il ritiro dell'Inter in Svizzera per fare ritorno a Milano. Il centrocampista belga, fuori dal progetto di Antonio Conte e della società Nerazzurra, nella mattinata di domenica ha svolto un allenamento personalizzato prima di lasciare Lugano. Non è ancora stato reso noto, tuttavia, se l'ex giocatore della Roma prenderà parte o meno alla tournée della squadra interista in Asia, al via da martedì pomeriggio. Dalla Spagna sono sicuri, Ames Rodríguez cambierà squadra, ma rimarrà a sorpresa a Madrid. Il colombiano, secondo quanto riportato da marca, avrebbe scelto l'Atletico. Stando allo quotidiano iberico, il fantasista non avrebbe intenzione di lasciare la capitale spagnola esposerebbe il progetto dei Colcioneros piuttosto che quello del Napoli. Secondo fonti vicini all'operazione, l'affare addirittura sarebbe prossimo a concretizzarsi. Il calciatore avrebbe frenato l'interesse del Napoli. Fondamentale, come detto, sarebbe stata la volontà del giocatore di rimanere a Madrid e di giocare al Vanda metropolitano.